Ciao a tutti da Vigefocus anche oggi La Club Rotation Dance Chart è la classifica con i 10 video più ballati di ogni settimana qui su Viva TV I 10 video in questione ogni settimana si susseguiranno senza interruzioni e avremo sempre una nuova numero 1 Noi ci rivediamo dopo la prima posizione Ma prima di partire vi ricordo che vi aspetto nei commenti su V-Contact e sul mio canale YouTube Questo programma lo trovate anche in streaming e in Smart TV Partiamo intanto con Viva Last Week, la posizione più alta della scorsa settimana Il video più ballato era Ready For Your Love Felix Jain e Sophie Ellis Backstor Jain, un DJ e produttore tedesco a fianco della cantante Sophie L. Backstor Canta autrice e ancora una volta continuano a farci ballare in tutti i dancefloor di tutto il mondo E naturalmente qui su Viva TV E partiamo! Ciao! 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 Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Oh, you are my son of mine You own me, you own me Something more than a whisper, sorry You own me, you own me Something more than a whisper, sorry Something more than a whisper, sorry Musica Grazie a tutti 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 And now Grazie a tutti 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 Grazie a tutti